A voce alta, ok? A voce alta Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono tornato incredibilmente con mio padre Dico incredibilmente ogni volta perché è proprio un'incredibile gioia averti qui con me in questi video Ma tu non sei la mia gioia, io sono felice, chiaramente Siamo qua ragazzi in un nuovo episodio di Seguardi Scossa Esatto, bravissimi, credibilmente hai imparato Finalmente siamo riusciti a calibrare l'iTracker Quindi adesso segue esattamente le pupille di mio papà Ma oggi non sarai l'unico a prendere la scossa Cioè tu dici sono l'unico a prendere la scossa No, vedremo un video e avremo 5 minuti tu e 5 minuti io Ma ovviamente l'altro dovrà dare la scossa solo ed esclusivamente nel momento in cui Il sottoposto guarderà delle zone che non deve guardare, ok? Mettiti le cuffie perché così, sì Sì, quella si è rotta non so per quale motivo, devo aggiustarla E andiamo a mettere la scossa Andremo a guardare delle streamer, lasciate un mi piace e che la sfida abbia inizio Attenta! Non ho attivato l'iTrack Che cazzo guardiamo se non lo attivo giustamente Ok, 3, 2, 1, go! La compilation di... lo senti l'audio, no? Ok, attenzione che... Iniziamo con queste cose, con i doppi sensi, a mai finire, giustamente Sempre guardare nel punto giusto papà Non ti spostare mai Attento a dove ti cadono gli occhi, la carne è debole Ma la scossa pure! Oh, devi guardare a lei, non puoi guardare... Devi guardare gli occhi! La challenge consiste nel guardare gli occhi Se guardo i navi nell'angolo è troppo semplice Oh my god! Beh, però non ti puoi mettere così, figlia mia Guarda là, è tutta bagnata No, io non guardo Ah, 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 ah Eh, ti era caduto un po'... Ah, ah, ah Ti è caduto... ah, di nuovo! Ah, papà, ah Che dobbiamo fare? Ah, no, non guardo sopra, sopra, guarda Oh, ecco, bravo Devi essere l'ingio al dovere Io l'ho capito che qua ti casca l'occhio Però, figlio mio Dai, però anche lei Questa è andata a vuoto Non so dove partire Qualcun'altro... Eh, la madonna! No, non ti guardi Porca mia... Dai, ma come fai a non guardare? Ma io mi prenderei 40 scosse pur di guardare Mamma mia Ah! Ah, 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 ah Eeeh Maron, ma è la stessa, sì Ma questa la devo andare a seguire subito Peach si chiama Adesso, adesso va Ah! La faccia, la faccia, papà A quanto siamo di minuti? Guardo io, tu non guardare Due minuti, hai altri tre minuti Ah, bellissimo Maronna, santissima Ma che cazzo c'è qui? Cosa stiamo guardando? No, io perderò Cioè, io prenderò 80 scosse, ragazzi Impossibile Sempre lei! Ah, ah, ah Sempre lei! Ormai abbiamo capito che lei è il caposaldo di questa challenge Mamma mia Ecco, sì Sarà contento il ragazzo, comunque Che lei fa questo lavoro Ah! Ah! Pensavi non me ne accorgessi? O stavi controllando se fossero ancora lì? O se fossero scappate Non se ne vanno, tranquillo Però fai bene a controllare ogni tanto Perché non si è mai troppo prudente al giorno d'oggi Oh, cambiamo streamer Devi guardare lei negli occhi Non devi guardare il gioco Eh, questa è pure ben messa Lei negli occhi Negli occhi, guardo! Se la volta che distogli lo sguardo dagli occhi Ti ammazzo Eh, vabbè Eh, vabbè Figliola Però Adesso capisco che la mamma È stata generosa con te Sei stato sfortunato Perché l'occhio ti è caduto Dove proprio Anche se qua non c'è un cazzo da vedere Però Eh, ecco Troppo vestita Troppo vestita Questa è streamer Eh, però è una bella ragazza Però Anche lei Ha il suo perché Un minuto e mezzo rimanente Caro papà È la madonna È santo Dio È santo Dio Non guardo Non guardo Mamma mia Figola Ma che cazzo è Ciao Eh, sì, sì Proprio lo strabismo Stiamo guardando Porca miseria ragazzi Cioè questo è veramente Un test di omosessualità E tu lo stai passando a piedi L'ultimo minuto papà Resisti 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 Che la card è debole Attenzione Siamo tornati a quella di prima Che giustamente abbiamo Ormai ci siamo affezionati Quindi comunque La volevamo rivedere Stai bene Stai bene Va bene così Io mi alzerei comunque Per vedere anche il Se è tutto a posto Anche dall'altra parte È Cristo santo È Cristo Eh, ti ho visto figlio mio Ti ho visto Mi hai approfittato Mentre mi ero calato Eh Ah Qua proprio Uno sfasamento C'è stato Madonna ragazzi Porca troia Ma Twitch è il Quanto manca? Manca poco Manca poco 15 secondi Dai che te la do Un'altra cazzo Madonna ragazzi Twitch è il futuro Mi D'ora in poi Solo Twitch Ma ci abbiamo finito Dai dai Va bene Abbiamo finito Minchia eh Te l'hai vista brutta Aspetta facciamo la copertina Prima che ce la dimentichiamo Bene ragazzi Siamo arrivati al mio turno In realtà questa è la quarta volta Che registriamo questo video Perché per ben due volte Il mio turno È andato a puttane Perché si è corrotto il file Quindi questa in realtà È la mia terza volta Che mi prendo Le scosse gratis Capito? Qual è il dramma Bando alle ciance È inutile Piangere sull'atversale Qua sto diventando Un cristo di pietà È tutto Tutto pieno di busto Non me la dare Quando non c'è bisogno Oh Facciamo sempre Cinque minuti Eh Ah Dio mio Che video di merda Che sto facendo Aspetta che qua Mi viene largo Sì I need a big coffee E vi giuro che sembrava I need a big cock Comunque Sì so Ma dove cazzo sta Ma ci sono dei rumori molesti In sottofondo Te lo giuro Ma che cazzo sta succedendo In casa di questa Questa era gratis Ma dove hai visto Ma che cosa Che ho guardato la faccia Me la devi dare Solo quando guardo In basso Guarda quante streamer Che stiamo conoscendo Con questi video Però Vedi C'ho proprio gli occhi C'è gli occhi Sui suoi occhi Però mica lei Sta stronza Maledetta Mi vuole fare Prendere le scosse È palese Guarda Che cazzo vuoi Ah Non l'ho vista Succa Succa Sto guardando in alto Sto guardando Sto guardando In alto Ah che cazzo vuoi Ah che cazzo c'entra Siamo a mare Siamo a mare Siamo veramente messi Malissimo Non l'ho visto Oh non rompere il cazzo Non l'ho visto Non mi puoi dare le scosse A muso Sì vabbè Guarda sta zozza proprio Aia Arca muttana Cristo No qui non l'ho visto Compa Pausa Quanto siamo Porca due Due minuti Ma dove cazzo Quando cazzo passa il tempo Sì sciolto Pausa Mi sta venendo Mi sta venendo un crampo al collo Non l'ho visto Non l'ho visto Arca di quella vacca Questa minchia di scossa Fa un male Non fa niente Non fa niente Questo è un male Insopportabile Anche l'anima Mi sta facendo male Dopo tre volte Qui non l'ho visto Ma perché me la dai Quando non guardo Comunque ragazzi Questa potrebbe essere Tranquillamente L'arma dei genitori Del futuro Io lo metterei tranquillamente A una capigliera A mio figlio La scossa elettrica Così non mi sporco Ancone le mani Per dargli boffe Sarò un padre di merda Sta parlando Appena detto Mi sto mettendo un reggiseno Non si vedono i miei capezzoli Ma che cosa sto guardando Io non controllerò Comunque Nel dubbio No 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 L'ha sapendo Non me ne fotte niente Se si metto un reggiseno o meno Faccia faccia Non so se io Ho guardato la faccia Comunque ti giuro Ogni tanto Se ne va a fa un culo Ma lui Io non guardo Sì vabbè Che cosa cazzo Sta facendo Che brutta Santo Dio Minchia che è l'aria Ma che vuoi Metto pausa e ti distruggo Te lo giuro Metto pausa e ti ammazzo A legnate Eh non ce la faccio Che cazzo vuoi Ho guardato la faccia Se vabbè Sta minchia Dammi ragazzi Impossibile Pausa Porca di quell'altro Ti do un pugno C'è guarda Dove non lo vedete C'è lui che ha il telecomando E' così Esca ma Darmelo quando non c'entra niente C'è lui che è su Tutte le comando così Che ha tipo il tic Te lo pianto in testa Sta minchia di antenna 40 secondi eh Aspetta Non funziona Non lo farò mai più Te lo giuro Non funziona Non funziona Sgamato Ma che ho sgamato Non fici niente Mi stai mi chiedendo 40 scosse gratis Hai sgamato Ti giuro appena finisce Sto scherzo Di sto video Ti uccido Sì vabbè Talla chiss Chiss è da galera Se cosa avessero a censurare Ma come Sto 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 Cosa Dei pazzi Cosa Dei pazzi Cosa Cosa Stai fermo Sta scossa Ma che cazzo vuoi Se guardo il tetto 5 e 12 Pure 12 secondi Mi ha dato 40 senza motivo Ti voglio Che non Anregistrato Di nuovo Lo faccio Per la quinta Volta Cazzo Cazzo Questo video Finisce Qua ragazzi Baffa Al cuo L'ho fatto Tre volte Quindi 30.000 like Voglio Io vi faccio vedere Il braccio Ora non è per mostrare Guarda È un Cristo di pietà È tutto Mi raccomando È Lasciato un mi piace Perché Il prossimo video Sarà Ogni Se guardi Due euro Ogni volta che guarderemo Quello che non dobbiamo guardare Dovremmo dare Due euro All'altro Quindi sarà Una bella sfida Noi ci vediamo al prossimo video Wuhuuu Grazie a tutti Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video